La gastronomia è talvolta definita l'arte del cibo. Può anche riferirsi a uno stile di cucina o alle conoscenze indigene di una particolare regione. La sostenibilità è l'idea che le cose, l'agricoltura, la pesca, la raccolta di alimenti dalle foreste o anche la preparazione del cibo siano fatte in modo da rispettare e non sprecare le nostre risorse naturali. La gastronomia sostenibile tiene conto della provenienza degli ingredienti, di come vengono coltivati e di come arrivano ai nostri mercati e infine nei nostri piatti. Gastronomia sostenibile per le persone e per il pianeta. Gastronomia sostenibile per le persone e per il pianeta. Grazie. Grazie.